Inaugurata domenica mattina la seconda fase dell'intervento di recupero di Forte Garda sul Monte Brione arriva, appena conclusa. Dopo che la prima fase del progetto, realizzata tra il 2012 e il 2014, ha recuperato parte degli ambienti sul lato sud del piano terra, con la pulizia della vegetazione del fossato di Gola, il ripristino e l'impermeabilizzazione della copertura, la seconda ha portato a un ulteriore recupero degli spazi e la possibilità di accedere, oltre che al piano terra, anche al primo piano e a una parte del secondo. L'intervento fa parte di un più ampio progetto di restauro, recupero e valorizzazione dei forti del Monte Brione, ovvero Forte Garda, Batteria di Mezzo e altri manufatti della Prima Guerra Mondiale, voluto dall'amministrazione comunale realizzato in collaborazione con il Museo Alto Garda. All'avvio del progetto Forte Garda, in stato di abbandono, si presentava ampiamente danneggiato, oltre che dal tempo, anche dall'attività di recupero del ferro dell'armatura, avvenute tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Con l'inverno prenderà avvio la terza fase dell'intervento di recupero di Forte Garda, che renderà visitabile anche il secondo livello del Forte, per un costo di circa 220 mila euro. I lavori saranno conclusi in tempo per le celebrazioni del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale nel 2018.